buona sera buona sera non c'ho più voce un po di raucetine ma chissà come mai mamma mia mamma mia che freddo allora in ciclovedia tre cani ho trovato la parola godere godere e provare il sentimento di intima soddisfazione che viene dalla contemplazione di un bene spirituale o materiale e quindi godere questo e godin è qualcosa che deriva da godere ma veramente ma poi godin è ormai dell'inter ha firmato amici miei godin ha firmato per l'inter e stasera si è presa questa grandissima soddisfazione di fare il secondo gol una partita molto tattica non certamente spettacolare che la juve stava a stento portando avanti ma l'atlete era una squadra tosta tosta come il suo allenatore come il ciolo simeone e vedete purtroppo lo so più di mezzo italia era contro la juve evidentemente sarà perché vince sempre sarà perché ha dei peccati originali da farsi perdonare fatto sta che tanta italia ha esultato stasera poi io personalmente quando ha segnato godin ha segnato l'inter per me bellissimo un giocatore di un carisma altro se adesso che viene l'inter farà il capitano chi meglio di lui può fare il capitano già la juve era stata fortunata fortunatissima perché era stato chiamato un calcio di rigore per l'atletico annullato dal base effettivamente il tocco inizia fuori aria e va bene poi gol di morata e qui è uno scandalo annullato perché c'è stato un tocchettino di mano di mano sulla sulla schiena del fragilissimo chiellini sapete che è un giocatore molto esile e fragile che è volato è volato ed è stato annullato sembrava quindi che la dea vendata avesse avuto a cuore le sosti di questa juve e invece gira 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 e il vento è cambiato e nonostante ciò sul goal di i menets sono 1 a 0 ancora si buttavano a terra in aglio di rigore ma non so chi che stava a terra con le mani sul viso a vedere l'arbitro di nascosto che faceva e poi si metteva di nuovo le mani sul viso ma che cosa le dico una juve che ricorda questi mezzucci da oratorio è una vergogna e poi c'è stato il capolavoro di godine che su una ribattuta insforbiciata ha inzaccato un pallone che solo in quel modo potrebbe essere messo in porta ora certamente non è che la juve ha compromesso del tutto ma certo è la partita di ritorno sarà difficile per la juve perché parte da 0 a 2 e quindi deve vincere almeno 2 a 0 per i supplementari e stando attento che se l'atletico facesse un goal la juve dovrebbe fare 4 goal e fare 4 goal a questo atletico non ci riuscirà mai quindi sarà un'impresa una partita sarà molto bella e quindi sono veramente ansioso di vederla e do questa volta almeno il 60% 60-65% di possibilità all'atletico di passare e non più del 35-40% alla juve nonostante il fattore campo quindi questo è quanto grandissimo grandissimo atletico che comunque ha meritato e strameritato forse doveva finire 3 a 0 per giustizia e la juve una volta tanto una volta tanto testa bassa silenzio e a casa è una volta tanto capita anche a voi buonanotte iscrivetevi al canale grazie